Eccoci tornati dopo la conquista di Taras Allora, innanzitutto prenderei questi E questi Li rimando ad arpi Così si addestrano Possiamo addestrare i lancieri italici I lancieri leggeri italici E le birre Questa la sposterei qua Perfetto Sarei tentato di affondare questo Anche se è un 4 stelle C'ho paura che mi ammazza No Ok, meno male 274 Non possiamo fare niente La crescita però è buona Diplomatico è mosso Questo stiamo andando in Egitto Manca a farci apposta Sono in guerra con i sede Uccidi Fricchezze modeste Informazioni geografiche Per informazioni geografiche No Ce le hai mille Un proposito più generoso Buono 1274 Credo che questo sia ancora tutto loro Che fazioni ci sono? La Germania No, è l'Armenia Potremmo andare in Armenia Andiamo in Armenia Ok, 1274 E anche questo mi piacerebbe farlo Un centro militare Facciamo un campo di vigile E ok Anche se non so se mi conviene svilupparlo adesso Questo Però effettivamente Eh sì Eh posso farci gli stati Volendo Città minore o superiore Città minore Se non campo dei mercenari Eh Eh i per i tasti non sarebbe male Però costa effettivamente 3.000 Ah Vediamo cos'altro c'è Venusia Venusia Più 5% di felicità Potenza Non c'è niente Qui stiamo facendo la crescita Questo può aumentare la crescita 2.000 Quasi 3.000 Ah no Forse questo è meglio fare la crescita Quindi 900 No? E un tempio Però Tempio di mercurio Mi aumenta il commercio Mi aumenta l'ordine pubblico Questo militare Farei anche Taranto militare Questa è crescita Questo non ha niente di che Magari fare crescita anche questo Com'è messa l'agricoltura qui? Eh così così Non è niente di che Ma forse lo trasformerei In un posto di commercio Com'è il commercio? 61 188 No Faccio la crescita anche qua Sì E qui ci metto delle leve qui Come guarnigione Ok Chiudiamo E passiamo il turno Ah Gli scipi cosa fanno? L'epiro Vedo che qui ha il ponte Bloccato dai ribelli Grazie I ribelli E hanno attaccato Quella città sul nord Ah Sono tornati indietro O sono stati sconfitti Oppure Forse sono stati sconfitti Dai ribelli Eh due turni Eh due turni Guarda questo come mi insegue la flotta Ah ma io la metto qua Due turni Ce la faccio in due turni Eh no perché mi serve la flotta giustamente Che è Eh però tra che metto la sedia e tutto Non ce la faccio Ah abbiamo trovato un agente 105 Più 1645 Ad Arpi Mi ho fatto un mercante Oh Le fogne Ok A Taras Facciamo i vigili Mazza quanti sordi Qui non c'è niente Abbiamo messo le leve Sì Eh purtroppo Non ce la faccio a conquistarla O forse sì 252 10 0 Aia Mi sono fatto una brutta mossa Eh no Non ce la fanno sbarcare Eh no Non ce la facciamo Futtiamo su Brundisium Eh quindi becco una rivolta Sì No, sempre 50, quindi pensavo ci fosse qualche spia, no? Ok Eh, qui purtroppo mi becco la rivolta, mannaggia a me Andiamo a capo Ci offriamo come sempre di attaccare l'epiro Chiediamo in cambio 1800? Se non è troppo È troppo 1800 1100 Bilanciato 630 Facciamo 800 magari Perfetto Perfetto 139 Questo livello 3, no? 1080 costa Mi dà più 70 e più 5 Effettivamente non ho centro di reclutamento da nessuna parte Quindi le vorrei fare magari una potentia Quante persone ha? 2063 Magari su questo potrei puntare su 900 Tu 800 è un turno, no? Facciamo questo Anzi Facciamo prima questo Anzi Questo mi dà già delle truppe, no? Sì, facciamo prima questo Allora Passiamo il turno e vediamo la rivolta Mannaggia a me che ho mosso male le truppe Cioè, diciamo Ho fatto un azzardo Ricordiamoci che Bovianum È ancora libero Ecco la brutta notizia Ah no, nessuna Meno 53 I Ptolemai e l'Armenia sono alleati Eh Nooo Si è rivoltato Tito Iurio Bruto Allora Andiamo un attimo qua Sedare alla rivolta Nooo Tito Tratitore Però abbiamo guadagnato Cornelio Anche tu vieni qua Allora ma ci mando Tutti loro Eh Un po' più tranquilla la situazione qui L'ho appena fatto Ripariamo E poi facciamo un tempio di Marte Proviamo? Però se sento il 45-40 No Eh, mi sa che mi tocca Vabbè Addio, flotte Mannaggia a me Questa la sediamo noi Si spera Questi li abbiamo addestrati Li mandiamo A Taranto Qui ancora un turno Venusia 1503 Più 2% 1400 Potrei continuare a farli salire 800 turni Sì 800 turni 800 denari Però credo sia meglio far crescere adesso Venusia Però Questo è ok E poi posso fare gli astati Eh, potrei fare sì Large town Quindi i 3000 Devo raggiungere le 3000 unità Eh, qui ci sono Mi servono 1080 Eh, forse compiere metterli da parte qua Anche qui si potrebbe fare, no? Perché è la cavalleria Volendo Mi servono 3000 persone, no? Siamo a 2104 Posso aumentare la crescita Con un per cento Facciamo un granaio Vai Questo ci ha pure guadagnato le stelle Questo Questo cresce di 1.5 Questo di 1.5 Questo di 1.5 Questo di 2 E questo di 2 Non male Questo è ancora il punto No, è l'Armenia Alleati I tolemaici Modesto A most generous proposal Ok Novecento Quindi risaliamo a 1070 Poi qui possiamo reclutare le leve E i lanciari italici leggeri Però qui il prossimo turno Potrei fare I cavalieri Se li tengo da parte Sì La galleria leggera italica Sì Faccio gli schermaiatori Sì Mi piace Sì Sì Ne teniamo da parte Perfetto E poi le spie però Volevo un attimo vedere Prima di chiudere il video Le spie mi serve No Questo è tutto Diplomatico 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 Chi mi dà le spie Tempio di Mercurio Principe triari Chi me le dava le spie qui Non me lo ricordo Non me lo ricordo Devo un attimo guardarci Perché Ha tutto agli Diplomatico No Le difese sulle mura Vigili Stati Principe triari Gli italici I mercenari I cavalli Gli arcieri E compagnia bella Questo è il fabbro Per fare il fabbro Serve Il commerciante Vedi Ah il mercato Il mercato Il mercato Sono milleotto E mi serve Large town E commerciante Poi si potrebbe fare Una spia A taranto Belli Sarniti Italici Italici E poi si questo Però prima facciamo il tempio Va bene Ok Concludiamo qua Grazie